Perché questi signori avrebbero il 45% di... Allora, una raccolta firme per chiedere a chi è stato eletto in regione di perorare le cause del territorio. Sì, esatto. Noi abbiamo cinque rappresentanti eletti in questa provincia di maggioranza e quindi in grado di decidere, di essere determinanti. Chiederemo a questi signori che sono eletti non dai loro partiti ma dal popolo della provincia di opporsi a quello che è l'attuale progetto di ridimensionamento o chiusura di molti ospedali dell'interno e anche del Santa Croce di Fano. Quindi faremo questa raccolta firme che è una lettera aperta che chiederemo al maggior numero possibile di cittadini della provincia di Pesaro di sottoscrivere che è un invito, una vera moral suasion ai signori Minardi, Rapa, Talè, Traversini e Biancani a dire, ad ascoltare le popolazioni e a dire al loro presidente caro Ceriscioli, se tu non modifichi questo piano e salvi in modo rivisitato, ma salvi il Santa Croce alcuni ospedali dentro terra in modo chiaro ed evidente noi quando verrà il provvedimento in aula ti voteremo contro ovvero se le opposizioni presenteranno una mozione di sfiducia noi ti votiamo contro e vai a casa lo faranno? Non lo so io ho qualche dubbio, però sono anche convinto che alla fine il buon senso e la buona fede possano prevalere sull'interesse di partito noi dobbiamo convincere la Regione tramite questi cinque signori che hanno il potere di farlo ecco perché noi non abbiamo aderito alla raccolta firme perché è una raccolta firme lodevole, bellissima, che però alla fine non conclude niente questa è l'unica cosa che si può fare il presunto referendum fanese secondo me è una petizione ma non ha valenza perché il referendum si può chiedere solo su questioni di esclusiva competenza del Comune di Fano anche i banchi sanno che la sanità non è di competenza dei Comuni ma della Regione quindi anche tu facessi il referendum a Fano lo vinci col 100% dei voti poi lo porti in Regione dal punto di vista giuridico la Regione dice bravi complimenti però a me non me ne frega niente vado avanti per la mia strada